Musica Ciao a tutti, oggi vi farò vedere la mia terza gara che ho fatto per il momento dove ho avuto una vittoria, infatti sono arrivata seconda, è di tempo fa, penso settembre non mi ricordo il giorno e lei è la cavalla che non monterò più in teoria perché è un po' vecchiotta comunque è con quella che ho fatto tre gare per ora e questa è la terza si chiama Pepperita vi lascio al video che la gara è già partita, ciao! Ciao a tutti! Iscrivetevi al canale, mettete un pollicione in su e spero che il video vi sia piaciuto, al prossimo, ciao! Ciao! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti!